Siamo tornati in diretta e il collegamento che vi preannunciavo si diterà di alcuni minuti perché la nostra Federica Bianchi è ancora nella metro, sta per raggiungere il punto d'incontro dal quale partirà il corteo di Libera che giungerà fino a Piazza Duomo per celebrare in questo modo la 28esima giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti di mafia, questa giornata particolare che è un po' il momento emblematico dell'attività dell'Associazione di Promozione Sociale fondata da Don Luigi Ciotti nel 1995 libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Noi fortunatamente però abbiamo un asso nella manica, anzi due, perché sono qui con noi la vice sindaco di Monte Sant'Angelo, Rosa Palomba, nonché assessore all'istruzione alla cultura e al turismo e Pasquale Gatta, coordinatore della candidatura di Monte Sant'Angelo a Capitale Italiana della Cultura 2025. Bene, ben trovati, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, non è la prima volta che parliamo di Monte Sant'Angelo da questi studi, non è la prima volta che lo facciamo con voi, questo perché Monte Sant'Angelo sta vivendo un fermento tutto particolare di cui siamo molto felici in relazione a questa candidatura per la Capitale Italiana della Cultura, ma non solo, oggi avremo tempo e modo per parlare in lungo e largo di tutte le cose belle e importanti che state facendo. Se la regia è pronta però chiederei di inviare un contributo video che è stato realizzato da questa città che ha ben due siti UNESCO e appena vedo l'anteprima nei nostri schermi lancio questo video, eccolo, ringrazio la regia per la prontezza per cui ci tuffiamo in questa splendida cartolina da Monte Sant'Angelo e poi ne parliamo insieme ai nostri ospiti. C'è una città in Puglia dove la storia si dà appuntamento da millenni, dove la natura è sacra come un santuario, dove la spiritualità riempie il cuore e gli occhi e dove il cibo ha ancora il sapore delle cose vere. Questa città è Monte Sant'Angelo, la città dei due siti UNESCO. Ha un weekend da te. Bellissima la cartolina che abbiamo appena visto, Monte Sant'Angelo che è nei nostri cuori e che caratterizza il Gargano da un punto di vista spirituale, ma non solo perché come saprete qui apparve l'Arcangelo San Michele e quando eravamo sostanzialmente in pieno Medioevo il Gargano diventa già da quel tempo meta privilegiata di pellegrinaggio. Monte Sant'Angelo nel Medioevo è un centro di importanza nevralgica non soltanto per la religione, ma anche poi per tutte le altre dinamiche annesse e connesse. Possiamo dire senza timore di essere smentiti che nel Medioevo Monte Sant'Angelo era una tra le città più importanti d'Italia, senza dubbio del Mezzogiorno d'Italia. Qualcuno dice la New York del Medioevo. Bene, allora con i nostri ospiti oggi vogliamo parlarvi di tutto quello che di bello sta succedendo a Monte Sant'Angelo. Partiamo, lo chiedo a voi, dalla candidatura a Monte Sant'Angelo come capitale italiana della cultura o ce lo vogliamo lasciare per ultimo? Scegli il vice sindaco. Lo dico perché a Monte ci sono tanti eventi che stanno per partire, la settimana dell'educazione a breve, il festival Michael e poi c'è tutta la dinamica relativa alla candidatura appena citata. Da dove partiamo vice sindaco? Da dove partiamo? Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Partiamo da loro, dai ragazzi. Come anticipavi partirà a breve dal 27 marzo al 3 aprile, ci sarà la settimana dell'educazione. educazione è una parola che è inserita all'interno dell'acronimo UNESCO sul quale è stata appoggiata tutta la progettazione, il lavoro di promozione del territorio. Educazione, quindi la settimana dell'educazione è cultura, tradizione, storia trasmesse alle nuove generazioni. I pilastri della settimana dell'educazione sono le invasioni educative, i ragazzi conoscono il territorio, conoscono quelli che sono i punti nevralgici dal punto di vista culturale della nostra città e poi raccontano. E poi la raccontano, tant'è vero che costruiscono insieme ai loro docenti i quaderni didattici, i quaderni che sono appunto un racconto che i ragazzi, i bambini fanno e trasmettono ai loro coetanei come promozione del territorio a livello nazionale. La settimana dell'educazione è un evento che nasce in collaborazione e quindi in sinergia profonda con gli istituti scolastici, quindi i due istituti comprensivi più l'istituto superiore Giordani e quindi ecco una settimana dell'educazione densa di attività, di impegno, di eventi, tant'è vero che il 2 aprile, oggi vi annunciamo da qui da Tele Padre Pio, ci sarà come ospite il professor Schiettini della Fisica che ci piace. E quindi tanti sono gli appuntamenti nella settimana dell'educazione, questo che abbiamo visto alle nostre spalle con i miei occhi è uno spot che è stato realizzato proprio dai ragazzi grazie a un lavoro anche di laboratorio, laboratoriale che è stato fatto nelle scuole con Luciano Toriello che è poi il direttore artistico del Festival Mond e quindi i ragazzi raccontano e promuovono il loro territorio. Grazie, il fermento che sta vivendo la vostra città non è qualche cosa di appena nato, leggevo sulla Locandina che il Festival dell'educazione, la settimana dell'educazione, giunge alla quarta edizione così come anche il Festival Michael è già un festival rodato, quindi questa candidatura a Capitale Italiana della Cultura non è casuale ma è, se vogliamo e come ci auguriamo, lo splendido coronamento di un percorso lungo, importante su una città che ha anche le sue criticità. Pasquale Gatta, coordinatore della candidatura a Montesant'Angelo Capitale Italiana della Cultura 2025. Che cos'è? Micael. Dicevi bene, nel 2018 abbiamo creato un progetto strategico su cultura e turismo e come diceva il Vice Sindaco ponendo alla base i due riconoscimenti UNESCO, l'UNESCO è il massimo riconoscimento al mondo per i beni culturali e naturali, noi abbiamo un bene culturale delle tracce di Longobardi, del santuario di San Michele Arcangelo riconosciute dal 2011 in un sito seriale nazionale, i Longobardi in Italia insieme a Brescia, Benevento, Spoleto, Civitale del Friuli eccetera. E poi le faggete vetuste della foresta Umbra, il secondo città UNESCO riconosciuto nel 2017 e ampliate nel 2021, quindi abbiamo lanciato il brand alla città dei due siti UNESCO e con questo abbiamo lanciato 5 eventi dedicati al brand che vanno dalla settimana dell'educazione che da quest'anno si sposta su marzo, in realtà dovevamo tenerla dal 20 al 25, poi l'audizione della Capitale Italiana della Cultura è stata spostata al 27 e quindi si sposta anche alla settimana dell'educazione, prima si faceva in novembre. Dal 5 al 9 maggio presentiamo la sesta edizione del Festival Michael, Michael è un progetto evento che nasce nel 2018 per mettere insieme i centri michaelici nel mondo. Nel 2018 siamo partiti con il patto di amicizia con le terre di sacra di San Michele in Piemonte, la sacra monumento simbolo del Piemonte, quindi con i comuni di Avigliana. Nel 2019 abbiamo fatto il gemellaggio internazionale con Mont Saint Michele, l'abbazia francese che è stata fondata da una pietra del santuario di Monte Sant'Angelo. Nel 708 arrivano degli emissari dalla Francia inviati dal vescovo Uberto a prelevare una pietra dal santuario di Monte Sant'Angelo per fondare l'abbazia francese di Mont Saint Michele e noi siamo stati anche a Mont Saint Michele a vedere dov'è la pietra sulla quale c'è scritto Monte Gargano. Abbiamo fatto un gemellaggio nel 2019 nella seconda edizione di Michael e poi la pandemia ci ha un po' bloccati, adesso riprendiamo questo cammino, questo percorso. Questo percorso che poi è anche alla base della candidatura di Monte Sant'Angelo, come dicevi il dossier di Monte Sant'Angelo curato da grandi professionisti a livello nazionale e internazionale, dalla fondazione Links, da Alessandro Bollo. Alessandro Bollo è quello che ha scritto, che ha curato il dossier di Matera, capitale europea del 2019 e quindi siamo in buone mani. Il nostro dossier è intitolato Monte Sant'Angelo 2025, un monte in cammino, siamo capofilla dell'intero territorio del Gargano. Ricordo che il 28 agosto sul Gargano al posto di andare al mare tanta gente si è ritrovata in una sala di una biblioteca comunale, c'erano più di 200 persone, 12 sindaci, 174 tra associazioni e imprese del territorio, di tutto il territorio, per coprogettare insieme il futuro, per coprogettare il 2025. Di questo ne parleremo più approfonditamente nella seconda parte della nostra intervista, tiriamo solo per qualche istante il fiato e ritorniamo subito di nuovo insieme. In compagnia dei nostri due ospiti in studio, Rosa Palomba, vice sindaco di Monte Sant'Angelo e Pasquale Gatta, coordinatore della candidatura di Monte Sant'Angelo a Capitale Italiana della Cultura 2025, ritorniamo sul Gargano a Monte Sant'Angelo con precisione, per la precisione, che peraltro, come diceva lo stesso Pasquale, si è fatta capofila di un raggruppamento, di una scelta di comuni, di associazioni, di attori dell'innovazione sociale, culturale e anche economica del nostro territorio, che fa ben sperare per il futuro. Abbiamo detto una candidatura che è frutto di un percorso lungo ormai alcuni anni e che si è espresso con eventi di portata internazionale, come lo stesso Mica e l'evento di cui parlavamo prima, tra l'altro nel Fuorionda ragionavamo un po' su questo titolo particolare che tante volte trae in inganno il lettore e io stesso prima tentennavo perché stavo pensando di pronunciarlo Michael, Michelle, Mica e... Ed è proprio, è voluto, è voluto perché è un progetto internazionale che porta il nostro Arcangelo, il nostro santuario, la nostra città, lo proietta a livello internazionale. Molto bene, a proposito di eventi, il Comune di Monte, la città dei due siti UNESCO ha un programma molto ricco di eventi che opportunamente sono stati calendarizzati, vero Vice Sindaco? Sì, abbiamo lanciato a febbraio dalla BIT di Milano un calendario unico degli eventi, in realtà insomma siamo stati anticipatari da questo punto di vista perché sono già diversi anni che lavoriamo su una programmazione che è annuale proprio perché spingiamo molto sugli eventi quali attrattori, quindi abbiamo lanciato questo calendario unico degli eventi che è partito proprio con le fanoie del 18 marzo, di qualche giorno fa, che diciamo ha, tra l'altro alla BIT abbiamo lanciato Michael 365 che è un nuovo progetto, è quasi una spin off del Festival Michael legata proprio all'Arcangelo e un calendario unico degli eventi che poi spazia da eventi di carattere culturale, gastronomico, abbiamo appunto come ricordava Pasquale il Festival Valmica, il 25 giugno ricordiamo e festeggiamo il primo riconoscimento UNESCO che sono le tracce dei Longobardi nel santuario, il 7 luglio invece le faggette vetuste, quindi il secondo patrimonio naturale che Monte Sant'Angelo ha il pregio, ha l'onore e l'onere di avere e poi ancora tutta la parte dedicata all'estate con grandi appuntamenti come Festa Ambiente Sud, il raduno dei suonatori di Tarantella, abbiamo tanti eventi sportivi, tra l'altro anche a maggio c'è l'evento dedicato proprio al rally, abbiamo la Corrimonte in agosto, il bike, abbiamo a settembre, il 24 settembre ci sarà invece il corteo delle apparizioni sempre dedicato all'Arcangelo San Michele e una settimana dopo la grande festa appunto della festa patronale, il Festival Mond che cade il 29 di settembre, la festa patronale il 29 di settembre con in processione portiamo la spada di San Michele, quindi che viene prelevata un appuntamento molto sentito, guardiamo qualche immagine, in cui appunto la spada viene prelevata dalla teca e portata in processione, il Festival Mond che è il festival invece del cinema sui cammini, Monte Sant'Angelo ha puntato molto anche sui cammini e poi abbiamo lavorato molto sui weekend, ha un weekend da te, la nuova campagna di promozione che abbiamo lanciato sempre dalla BIT e lavora molto sui weekend, quindi concentrandoci proprio su quella che è l'apertura della Ginolissa di Foggia, dell'aeroporto, è partita e quindi stiamo concentrando ancora di più la campagna di promozione che collega le principali città, quindi Milano, Torino, Catania e Verona proprio a un weekend da te, quindi città che sono facilmente raggiungibili grazie all'aeroporto di Foggia e quindi con appuntamenti come il trekking, il bike, oppure le escursioni a cavallo, yoga, le visite guidate, la gastronomia, c'è l'imbarazzo della scelta. Ma devo confessare a voi e a tutti gli amici e le amiche che ci seguono su Padre Pio TV che pur essendo yoga organico ed essendo stato molte volte a Monte Sant'Angelo, ogni volta che ci ritorno rimango fatalmente ammaliato da questa città che ha ancora questo spirito fascino medievale che conquista subito gli occhi, il cuore, stiamo vedendo alcune immagini nel nostro maxischermo che rendono perfettamente l'idea che è un viaggio che vale la pena fare tutto l'anno. Con Pasquale Gatta vorrei chiudere questa intervista ritornando al 21 marzo, oggi giornata in cui si celebrano con Libera le vittime innocenti di mafia, un tema caro alla vostra città, la vostra amministrazione, per quale motivo Pasquale? Monte Sant'Angelo da qualche anno ha il riconoscimento di avviso pubblico, l'associazione nazionale degli enti locali antimafia che proprio oggi insieme a Libera promuove il 21 marzo, la giornata del 21 marzo contro le vittime innocenti di mafia e proprio oggi il nostro sindaco Pierpaolo D'Arienzo è il coordinatore per la Puglia dell'associazione e apriremo a proposito di 21 marzo di antimafia e di Libera e avviso pubblico, come dicevamo la sesta edizione del Festival Mica si terrà dal 4 al 9 maggio e questa sesta edizione sarà aperta, sarà inaugurata dall'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico, quindi tutti gli amministratori saranno a Monte Sant'Angelo il 4 e il 5 di maggio, apriremo con un convegno, con un momento forte dedicato alla cultura, la cultura come antidoto alle mafie e questo lo faremo appunto con una delle associazioni più importanti d'Italia con avviso pubblico insieme a Libera, insieme a tante altre realtà, tanti altri comuni che quotidianamente si occupano di antimafia e noi a Monte Sant'Angelo con il tavolo permanente sulla legalità abbiamo fatto un percorso molto importante con le scuole, con le parrocchie, con le associazioni promuovendo la carta per l'impegno alla legalità, un impegno concreto, quotidiano che parte dal basso, che parte dai nostri ragazzi. Tutto questo è molto bello e importante e noi ve ne siamo davvero grati, vi siamo grati per essere venuti a raccontarlo qui a Padre Pio TV, la promessa è che ci rivediamo presto in maniera tale da continuare, da proseguire questa splendida narrazione di un territorio finalmente più consapevole e più pronto ad affrontare le sfide del futuro anche per fare in modo che i nostri ragazzi non siano costretti necessariamente a partire per potersi realizzare. Il nostro dossier è fondato sulla restanza. Ecco, grazie alla Vice Sindaco Rosa Palomba, grazie a Pasquale Gatta, coordinatore della candidatura di Montesant'Angelo, capitale della cultura 2025, quindi speriamo di risentirci presto con tante altre belle notizie. Grazie a voi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi.